Musica Ben trovati con il TG Liss di Telebari. Si sono svolti nella Basilica di San Nicola i funerali di Simeone di Cagno a Brescia, ex sindaco di Bari dal 1995 al 2004, deceduto all'età di 80 anni. Era malato da tempo e la settimana prossima sarebbe stato il suo compleanno. Nei giorni scorsi il comune di Bari allestito, la camera ardente aperta a tutti coloro che volevano portargli l'ultimo saluto, tanti messaggi di cordoglio. Di Cagno a Brescia è stato anche presidente di Acquedotto Pugliese, oltre che imprenditore nel settore dell'edilizia e nell'alberghiero. Aderì a Forza Italia fin dalla sua fondazione, mentre nel 2006 fu eletto alla Camera dei Deputati. Nei primi mesi del 2024 i finanzieri del gruppo Bari e i funzionari di Bari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato nel porto 118.556 calzature in procinto di essere introdotte illecitamente sul territorio nazionale. In attuazione di uno specifico protocollo d'intesa, siglato tra Guardia di Finanza e Agenzia Dogane, è stata posta in essere una mirata analisi di rischio che ha consentito di individuare e sottoporre a controllo, in quattro distinte operazioni, altrettanti mezzi che trasportavano calzature. I riscontri fisici sui carichi hanno fatto emergere carenze e incongruenze in ordine alla quantità, alla qualità e al valore dichiarato dai beni trasportati. E adesso le altre notizie del TG LIS. L'assessorato al Welfare rende noto il programma delle mense e dei servizi attivi in favore delle persone in situazione di grave marginalità realizzato con la collaborazione della rete cittadina delle realtà impegnate sul territorio. Nella giornata di Pasqua, gli operatori dell'unità di strada comunale, accanto alla consueta somministrazione di bevande, distribuiranno anche porzioni di colomba, mentre il primo aprile, lunedì dell'Angelo, saranno impegnati a Torrequetta in attività di sensibilizzazione. Proprio per i progetti destinati alle donne vittime di violenza, questo assessorato ha voluto fortemente che vi fossero delle premialità. Sono le parole di Anna Grazia Maraschio, assessora alle politiche abitative della Regione Puglia. La dotazione finanziaria prevista è di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2024 e di pari importo per gli esercizi finanziari 2025-2026. Per ciascun progetto pilota potrà essere richiesto un contributo massimo di 25.000 euro. Il progetto condiviso tra l'assessorato alle politiche abitative e l'assessorato al welfare sarà gestito dai comuni. Anche nel parco gentile del quartiere Iapigia arrivano i tavoli da picnic. Dopo la positiva esperienza fatta nel quartiere Sant'Anna, dove tanti cittadini mi avevano chiesto dei tavoli vicino alle aree ludiche dei bambini, utili per poter condividere momenti di relax, ecco accontentati anche i residenti del quartiere Iapigia, dichiara il presidente del municipio Leonetti. Questi tavoli da picnic inclusivi arrivano alla vigilia della Pasquetta e potrebbero tornare utili per quanti decideranno di rimanere in città senza dover rinunciare a un pranzo all'aria aperta. E' in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari l'avviso attraverso il quale il settore polizia annonaria, ecologia e attività produttive intende garantire la presenza regolamentata di posteggi di commercianti dotati di negozi mobili su area pubblica per il servizio di vendita di alimenti e bevande a coloro che assisteranno ai concerti di Vasco Rossi, al concerto di Max Pezzali e al concerto dei Negramaro in programma il 6 luglio 2024. In occasione di questi spettacoli di scena allo stadio San Nicola, presso l'aria esterna dell'impianto sportivo, sono state infatti previste 30 postazioni da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Si era sottoposta a una semplice spirometria, ma qualcosa è andato storto. Prima i conati di vomito e poi un quadro clinico peggiorato col passare delle ore fino al tragico epilogo. Aveva solo 30 anni, Monica Bongellino, la pizzaiola di Ginosa, deceduta nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una morte giunta dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto rianimazione, in cui i medici hanno provato in ogni modo a salvarle la vita. I familiari hanno presentato una denuncia e fanno sapere che nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia per conoscere le reali cause del decesso della giovane donna. Gli interventi per le infrastrutture stradali a Fasano e nei dintorni previsti per il G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi saranno eseguiti nella provincia di Brindisi. Nell'ambito degli interventi necessari per i collegamenti e gli spostamenti delle delegazioni e delle autorità dei Paesi partecipanti all'evento è stato deliberato dal commissario straordinario per il G7 Fulvio Maria Soccodato un piano di lavori di circa 3,9 milioni di euro per la rete stradale che interesserà in particolare l'area del comune di Fasano. Si tratta, sottolinea in una nota la provincia di Brindisi, di un grosso investimento utile a mettere in sicurezza la rete viaria del territorio. La statua di Santoronzo tornerà a svettare in cima alla colonna romana al centro dell'omonima piazza intitolata al patrono della città di Lecce da sabato 13 aprile. Lunedì scorso è arrivato l'ultimo nulla osta della soprintendenza sulla relazione di staticità relativa alla tenuta del sistema colonna capitello pulvino statua che ha permesso di poter fissare la data di collocazione della copia in bronzo al posto dell'originale. Ospiti d'onore della cerimonia saranno tutti i donatori e le donatrici che hanno contribuito a raccogliere la somma di 240.630 euro. Si dice indignato e spiega di provare vergogna per gli applausi e i fischi che intorno alle tre del mattino hanno accolto l'avvio della processione della dolorata a Trani. Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, tramite social striglia la movida. L'istinto sarebbe quello di farvi trovare i locali tutti chiusi. Il prossimo anno sbotta sui social il primo cittadino, ma mi rendo conto che pur essendo tanti non siete tutti e che pertanto il problema non è di ordine pubblico, ma di ordine morale, se davvero esiste una morale. E con il Tigilis è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie. Grazie.